Io temo una cosa, che lo Stato non è che si è arreso, lo Stato è complice di queste situazioni, della maggior parte delle cose che avete trattato questa sera. Il sindaco del PD deve stare zitto perché viene a parlare a nome del PD per la sicurezza, si stupisce delle cose come se quella situazione non fosse stata creata dal sindaco del PD. Perché se non si agisce immediatamente si hanno poi quelle situazioni, noi abbiamo un governo che è andato avanti di indulti, di indultini, ha fatto arrivare qua tutti i clandestini, ha permesso che si creassero situazioni come quelle, situazioni ingestibili, situazioni per cui chi è andato a manifestare degli immigrati per strada andrebbero presi, rimpacchettati e mandati a casa loro, per primi quelli, perché si sono permessi di andare in mezzo alle strade, hanno offeso gli italiani che li ospitano di fatto qua e andrebbero rispediti a casa loro e il sindaco che viene qua a nome di tutto il PD per la sicurezza a parlare, invece che stupirsi e dire oh mio Dio come fa a esserci questa cosa, quando ormai una settimana chi ne parla questa trasmissione come altre, va là e guarda entra dentro, ma non è vero, ci vuole rispetto per le forze dell'ordine, ci vuole rispetto. l'altro non sa di che cosa parla normalmente e si mette questa gente nella situazione di poter vivere questa gente e gli italiani.